Ciao a tutti, siamo arrivati alla sesta puntata e in questa occasione chiediamo all'intelligenza artificiale di ottimizzare i costi. Sarà una puntata un pochino più lunga perché il chat GBT si è un pochino dilungato ma credo che sia opportuna, quindi seguiamola con attenzione. Quindi ci eravamo lasciati nella quinta puntata di quali costi devo tener conto e lui dice Sì, è importante tener conto dei costi per determinare il margine di profitto necessario per mantenere un buon profitto. I costi da considerare possono includere costi di acquisto, quindi il costo per acquistare prodotti freschi dai fornitori, I costi di trasporto, i costi per trasportare prodotti freschi dai fornitori al vostro magazzino o al vostro punto vendita. I costi di magazzinaggio, i costi per conservare i prodotti freschi nel magazzino come l'energia elettrica, il personale, gli spazi di archiviazione. I costi di gestione, per gestire il magazzino, il punto vendita come il personale, i servizi generali e le attrezzature. I costi di marketing e pubblicità, costi per promuovere prodotti e attrarre clienti. Quindi ci sta facendo una sequenza dei vari costi, adesso ne aggiungerà ancora uno e poi vediamo come in qualche modo definisce un po' le conclusioni di questa attività. Costi fissi, costi come l'affitto, le bollette, le tasse, le assicurazioni che non cambiano con la quantità di prodotto venduto. Per determinare il margine di profitto necessario per mantenere un buon profitto, dovete prima calcolare il totale dei costi annuali, che comprendono tutti i costi elencati sopra. Quindi dovete stabilire un obiettivo di profitto annuo e dividere questo importo per il totale dei costi annuali. Il risultato vi darà il margine di profitto minimo necessario per raggiungere l'obiettivo di profitto. Quindi vedete come è entrato bene nel tema dell'analisi di quello che sono i costi per arrivare a determinare questo profitto. E qui ci fa l'esempio. Ad esempio, se il totale dei costi annuali di 100.000 euro, l'obiettivo di profitto è di 20.000, il margine di profitto minimo necessario sarà del 20%, 20.000 diviso 100.000 uguale a 20%. Questo significa che dovete vendere i prodotti freschi a un prezzo che vi garantisca un margine di profitto del 20% rispetto al prezzo di costo per raggiungere l'obiettivo di profitto. E' importante tenere presente che questo è solo un esempio che i costi e l'obiettivo di profitto possono variare a seconda della vostra attività. E' importante effettuare regolari valutazioni delle spese e del margine di profitto per verificare che siate sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Capite che sta dicendo molte cose che purtroppo in tante aziende, neanche tanto piccole, non vengono verificate. Cioè il fatto di crearsi un budget di vendita, un budget dei costi e fare un'analisi periodica per capire se lo stato d'avanzamento procede nel verso giusto, purtroppo è un'attività che non sempre la riesco a vedere in tutte le attività commerciali. E questo è un bel problema. Detto questo, vedrete che nella prossima puntata entriamo ancora di più nel merito e gli chiederemo addirittura di tabellarci quello che ci ha appena raccontato. Quindi non mancate alla prossima, ci vediamo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ne avete voglia e se ritenete opportuno farlo. Ciao! Ciao!